E poi, per concludere una riflessione, Giovanni Tria, proprio nella sua lettera, ha sottolineato, ed è questo è stato apprezzato dalla Commissione, che il posto dell'Italia è in Europa e nella zona euro, dice il commissario Moscovici, prima in italiano e poi in francese. Sono assolutamente d'accordo con il Ministro delle Finanze. La settimana scorsa a Roma ho potuto constatare, nella mia visita, che tutte le autorità che ho incontrato dell'amministrazione, ma anche dell'economia in senso ampio, mi hanno confermato che il posto dell'Italia è in Europa e nella zona euro. E quindi il bilancio dell'Italia deve essere discusso nel contesto del quadro europeo. Questo è un messaggio politico forte, positivo, per la Commissione europea, per i ministri europei delle finanze. Adesso bisogna fare dei progressi nelle prossime settimane, tenendo presente questo spirito. Oggi, comunque, costituisce una tappa importante e un precedente. Non si era mai verificato prima. È un momento di gravità, in qualche modo. Per noi, però, non è la fine del dialogo. È l'inizio di una nuova fase di questo dialogo, perché si sia in grado, in ultima analisi, di ridurre il debito pubblico dell'Italia nell'interesse del popolo italiano. Grazie. Marco.